Buongiorno, buon lunedì. Prima di iniziare l'esercizio volevo solo dirvi due cose sulle modalità d'esame su cui stiamo ragionando, nel senso che all'inizio dell'anno vi avevamo detto che l'esame probabilmente sarebbe svolto in aula con i vostri computer. La settimana scorsa ho saputo che il laboratorio dove tradizionalmente si facevano esercizioni per i corsi di ingegneria gestionale, che probabilmente nessuno di voi ha avuto modo mai di frequentare, è quasi pronto, nel senso che c'era stato un problema legato a un incendio nel 2020 per cui era totalmente ricoperto di fuligine impraticabile, hanno sistemato tutto e adesso le macchine ci sono, sono finendo le configurazioni eccetera. Quindi dovrebbe essere fattibile riuscire a fare l'esame nel laboratorio e questo da un lato è più semplice, più comodo perché avrete già le macchine senza problemi di rete, senza problemi di configurazione, c'erano i computer con il software installato e quindi dà meno problemi durante l'esame. Ricordo l'ultimo appello che abbiamo fatto in aula con i pc è stato un po' problematico, perché c'erano diverse persone che avevano i problemi e se tu hai problemi già dell'esame e vai a sommare quelli di configurazione di rete, chiaramente il livello di stress sale. Non lo so ancora con certezza, stiamo verificando in questi giorni se tutto funziona. Nel caso, chiaramente vi informo per tempo, la modalità di esame sono identiche, non cambia da nulla, la differenza è farlo sul vostro computer oppure sui pc del laboratorio che avranno esattamente le stesse cose installate. Un pochino di differenza la fa per chi usa il Mac, perché chiaramente in laboratorio i pc hanno installato Windows, ma in ogni caso se faremo l'esame in laboratorio, io come spero onestamente, le ultime 2-3 esercitazioni verranno fatte in laboratorio. Quindi le ultime settimane del corso sicuramente andiamo in laboratorio, così avete già modo di prendere familiarità con quelle macchine, vedere dove sono installati i programmi, in modo da arrivare al giorno dell'esame senza sorprese, che secondo me è la cosa più importante. Vi tengo aggiornati ovviamente man mano che andiamo avanti con le prove e nel caso appunto a parità di orario le ultime 2-3 settimane, quelle che normalmente sono riservate a fare temi di esame, tradizionalmente, ci sposteremo al laboratorio LEP, vediamo un attimo se ci stiamo con i turni, eccetera, ma questo, diciamo così, lo costruiamo strada facendo. Ci teniamo a informarvi perché appunto è la notizia della settimana scorsa, diciamo così, è bene cominciare a pensarci. Questo vuol dire, parlo per chi ho di fronte, ma parlo anche per chi vede la registrazione, per questo mi sono messo anche in video per eccezionalmente, diciamo, prevedete di frequentare almeno gli ultimi laboratori, anche chi segue a distanza, fa gli laboratori per conto proprio, eccetera, almeno le ultime settimane quando faremo la preparazione per l'esame, cercate di frequentare in modo da poter, diciamo così, risolvere o affrontare tutti gli eventuali problemi prima del giorno dell'esame stesso, perché poi il giorno dell'esame ovviamente il tempo è molto contato, contingentato, dovremmo fare più turni e quindi non c'è tempo lì di avere la persona che dice ma io non so qual è la password del laboratorio, oppure non ho fatto il token di Eclipse, cose di questo genere. Ne parleremo però cominciate a mettervi a calendario che le ultime settimane sono importanti perché faremo simulazioni d'esame sia dal punto di vista delle difficoltà d'esercizio, sia dal punto di vista delle modalità d'esame. Ok, fine dell'avviso. Torniamo all'argomento che vogliamo affrontare oggi. Allora, visto che noi siamo qua bloccati in aula lunedì mattina e fuori c'è il sole, facciamo un viaggio a Parigi e facciamo un esercizio che ha a che vedere con la metropolitana di Parigi. Questo è un progetto base pubblicato ieri sera che parte da un database che contiene le informazioni appunto sulla metropolitana di Parigi, sulle varie fermate, sulle varie connessioni e così via. Il database è fatto in questo modo. Abbiamo una tabella che rappresenta le linee, le varie linee, vediamola direttamente. Ci sono varie linee con i vari nomi, A1, A3, B, C1, C2, D1, M3 e così via. Ciascuna linea ha un nome, un ID numerico, privo di significato se non il fatto di essere univoco. Una velocità media di percorrenza, vedete che la maggior parte sono 55 km orari ma alcune sono più lente. Un intervallo tra i quali le vetture di quella linea si presentano in stazione, quindi mediamente ci sarà una vettura ogni 5 minuti per la linea M11 e una vettura ogni 15 minuti per la linea E ad esempio. E poi c'è un codice colore se uno volesse disegnare questo, il colore ufficiale delle linee. In realtà ho un pochino mentito nel senso che queste non sono le linee della metropolitana di Parigi perché sarebbero molte di più, sono le linee dei trasporti regionali di Parigi, la cosa delle tarer, se qualcuno c'è stato, che sono un pochino meno e quindi un pochino più gestibile, diciamo così, il grafo che costruiremo. Quindi ho preso solo un sotto insieme dei dati. Poi abbiamo l'insieme delle fermate che sono i punti in cui si possono appunto fermare le vetture. Quindi la tabella fermata è fatta così, ha un nome e delle coordinate geografiche, latitudine e longitudine. Qui sono chiamate x e y e quindi la latitudine è y e la longitudine è x. Si quadra anche con i numeri perché la latitudine è intorno a 50, noi siamo intorno a 40, 45 e le coordinate x si sono abbastanza legate alla longitudine. In database purtroppo le chiamava x e y quindi bisogna ogni volta fare uno sforzo mentale per ricondurci. Però essenzialmente è un elenco diciamo alfabetico, insomma, un semplice elenco di tutte le stazioni possibili in cui le varie linee, in cui le vetture delle varie linee si possono fermare. E poi abbiamo la terza tabella che come vedete è una tabella che mette in relazione molti a molti una fermata con un'altra fermata, che si chiama connessione. Questa è la tabella che ci spiega come viaggiano le vetture e ci dice che, guarda, una determinata tratta del percorso di una vettura passa da una certa stazione di partenza a una certa stazione di arrivo. Quindi seguendo questa relazione dal lato connessione verso fermata sappiamo qual è la stazione di partenza, sappiamo qual è la stazione di arrivo di una singola tratta. Chiaramente una linea, cioè una vettura che fa il percorso di una determinata linea, non so, la linea A, sarà composta da tante piccole tratte successive, ok? Dalla prima stazione alla seconda, dalla seconda stazione alla terza, dalla terza alla quarta e così via. Ciascuna di queste tratte è rappresentata da una riga nella tabella connessione. Visto dal punto di vista della fermata, vediamo che dalla fermata possiamo vedere attraverso questa relazione di sopra tutte le connessioni che partono da questa fermata, quindi sono tutte le vetture in partenza in certo senso, oppure tutte le connessioni in arrivo, tutte le vetture che arrivano in questa fermata che abbiamo identificato. Una connessione è anche l'informazione sulla linea, perché va bene che una vettura vada dalla fermata A alla fermata B, però questo tratto di binario tra la fermata A e la fermata B è condiviso tra più linee diverse, molto spesso se ci sono più linee che condividono un tratto di percorso. E allora ho questa informazione su questa linea, proviamo a vederlo nel database, questa tabella connessione è fatta così, non è molto leggibile, nel senso che sono solo numeri, è una tipica tabella fatta di chiavi esterne, quindi la prima è la chiave esterna sulla linea, che mi dice essenzialmente qual è la linea a cui appartiene questa tratta e poi abbiamo la stazione di partenza e la stazione di arrivo, quindi questo mi sta dicendo che dalla stazione 85 che è questo Sergileo alla Sergileo San Crist esiste una tratta, la linea A3 passa dalla stazione 85 alla stazione 87, poi dove va, dove arriva, dove prosegue, questa riga non ce lo dice, dovremmo cercare se c'è un'altra riga in cui la stazione di partenza sia 87 e la linea sia sempre 1027, qua ce n'è una in cui la linea sia 1027 e la stazione di partenza sia 87, ma in realtà non è, se guardiamo i numeri, non è il proseguimento ma è il ritorno, qui si dice che dall'85 va l'87, ma anche la stessa linea dall'87 va l'85, è abbastanza normale per una linea avere sia, diciamo così, un verso di percorrenza che il verso opposto, normale ma non obbligatorio perché potrebbero esserci delle linee che fanno un percorso all'andata e un percorso diverso al ritorno almeno per una parte del tragitto, qui non è scontato, però invece possiamo avere, invece questa riga successiva lo vediamo bene, noi avevamo visto la tratta dell'85 e l'87 di questa linea, da 87 la stazione successiva è 86, quindi noi sappiamo che questa linea dopo la stazione 87 proseguirà verso l'86, che è questo qui, la prefettura di Sergio, quello che è. Quindi per ricostruire il percorso di una linea lo possiamo fare andando seguire questa concatenazione di passaggi, cioè la connessione 2 che porta da 85 e da 87, può essere seguita dalla connessione 4 che porta da 87 e da 86 e a occhio croce c'è questa qui che da 86 porta 358, che è un'altra stazione nel Ville, Université o quello che è e così via. Questo ci dà l'idea, è una rappresentazione possibile delle connessioni, qui non ci sono gli orari, ci sono solamente le linee, quindi non ti dice a che ora passa una certa vettura o quante ce ne sono eccetera, ti dà i percorsi essenzialmente fatti da ciascuna vettura. Sulla linea l'informazione che non c'è esplicitamente sono i capolinea, nel senso che qui non c'è scritto la linea A da dove parte e da dove arriva, se voglio sapere da dove parte dovrei cercare tra le connessioni, qual è la connessione di quella linea che non ha stazione di arrivo, da cui partono ma non arrivano vetture. Però queste sono informazioni così come siamo riusciti a ottenerle dalla fonte, senza scaricare dei dataset che avessero queste informazioni. Allora, cosa vogliamo fare? Come primo passaggio proviamo a costruirci un grafo che rappresenti tutti i collegamenti che ci sono tra le varie stazioni. Quindi la prima domanda che ci faremo è di che tipo di grafo si tratta? Quali sono i vertici? Quali sono gli archi? Di che caratteristiche hanno gli archi? E che tipo, appunto, di quale tipologia di grafo stiamo parlando tra le 16 diverse tipologie che abbiamo visto la volta scorsa. Allora, la cosa più semplice chiaramente è il tipo di vertice. Beh, i vertici saranno le fermate. Un grafo in cui mi immagino, un nodo, un vertice per ciascuna fermata e poi queste fermate saranno collegate da degli archi e l'arco esisterà se le due fermate sono collegate, l'arco non esisterà tra due fermate se non c'è una connessione tra di esse. Ok? Quindi, poi il grafo è orientato o non orientato? Cioè la connessione tra due stazioni la consideriamo orientata in un certo verso oppure è indifferente il verso? Noi abbiamo visto che nei dati quando c'è una connessione, scusate, connessione, come abbiamo visto queste due c'è una connessione e c'è anche la connessione inversa. Quindi questo database mi fa in qualche modo pensare a un grafo orientato. Ma noi non dobbiamo essere necessariamente legati ai dati che abbiamo. I dati li abbiamo trovati così, però li rilassiamo e lavoreremo, diciamo così, come ci fa comodo. Sta a noi pensare se ci è più comodo, più opportuno rappresentare due archi diversi, per esempio in questo caso, due archi diversi, uno che va dalla stazione 85 all'87, l'altro che va dall'87 all'85, oppure collassarli in un unico arco non orientato, dicendo vabbè queste due stazioni sono collegate e per noi collegate vuol dire collegate in entrambi i sensi. Possiamo decidere. In realtà lo potremmo decidere se fossimo sicuri che ogni coppia di stazioni, che per ogni coppia di stazioni se c'è un arco che va c'è anche l'arco che torna indietro. Quindi vorrebbe dire, dovremmo essere sicuri che non ci sono delle tratte a senso unico, in un certo senso. Se non siamo sicuri, allora possiamo tranquillamente, nel caso più generale, rappresentare il grafo orientato. Io rappresento separatamente la tratta di andata e di ritorno, il peggio che può capitare è che rappresenti ogni cosa due volte. Viceversa se scegliessi di rappresentare un grafo non orientato e ci fossero delle tratte a senso unico, commetterai un errore di rappresentazione. Il testo cosa mi dice? Che grafo lo vuole orientato? Il suggerimento che mi dà già il testo, quando ero in me, è già quello di fare un grafo orientato, ma l'avremmo fatto comunque ragionando sui dati. È un grafo semplice o è un multigrafo o uno pseudografo, eccetera. Cioè che differenza c'è? Un grafo semplice o un grafo nel quale tra due vertici o c'è un arco o non c'è. E quindi, e questo è sempre vero, ci chiediamo le due domande che dobbiamo farci per capire se il grafo è semplice o no, è possibile che ci sia un arco tra un vertice e se stesso? In questo caso no. Non ha senso avere una linea che parte da una stazione e arriva alla stazione stessa, una connessione. l'altra domanda che dobbiamo fare, per capire se è un grafo semplice o un multigrafo, in questo caso se date due estazioni esiste una sola tratta, un solo arco che le collega o esistono più archi che le collegano? Allora, qui è una scelta che dobbiamo fare che dipende dal risultato che vogliamo ottenere. Adesso ci stiamo solo esercitando, però possiamo rappresentare questa cosa in due modi diversi, perché sicuramente tra due stazioni ci possono essere più archi, perché se ci sono più linee che collegano le due stazioni, adesso se non ricordo male avevo nel progetto Eclipse, salvato anche, eccola qua, una mappa di queste stazioni e di queste connessioni. Quindi vediamo che ci sono sicuramente delle tratte, ad esempio tra questa stazione e quest'altra, in cui c'è solo una linea che passa e quindi mi immagino che nel database ci sia un arco che collega l'andata e un arco che collega il ritorno. Però ci sono sicuramente delle coppie di stazioni, adesso ovviamente trovarne una, ad esempio, guardate questa sequenza di stazioni qua, 1, 2, 3, 4, 5, che sono stazioni tra le quali passa sia la linea, questo verde marcio, sia la linea lilla chiaro, adesso non chiedetemi di dare i nomi sensati ai colori, la linea questa è la linea 9 e l'altra è la linea, quel lilla strano, è la linea 8, sembrerebbe. Quindi è possibile che tra due stazioni passino più linee e allora nel mio database, nel database connessioni avrò più righe, in questo caso tra queste due stazioni avrò quattro righe, due che vanno per la linea verde e la linea lilla e due che tornano sempre per la linea verde e per la linea lilla. Allora se mi interessa conoscere o mantenere le informazioni sulla linea dovrò per forza creare un multigrafo, un grafo in cui tra questo vertice di partenza e questo vertice di arrivo ci saranno due archi, un arco identificato, colorato in qualche modo con la prima linea e l'altro arco identificato nella seconda linea. Se invece non mi interessa tenere traccia dell'informazione sulla linea allora posso collassare l'informazione dicendo semplicemente esiste una connessione di una o più linee? Sì o no? Allora in questo caso posso rappresentarlo con un grafo semplice che mi darà l'informazione sugli spostamenti che posso fare ma non mi darà l'informazione su quale linee prendere per fare questi spostamenti. dipende chiaramente dal problema che vogliamo risolvere. Se un problema che vogliamo risolvere è ad esempio trovami un percorso da una stazione a un'altra mi basta tranquillamente un grafo semplice perché mi dice quali collegamenti posso fare. Se invece mi chiedessero trovami un percorso in cui magari minimizzi cerchi di ridurre al minimo il numero di cambi di linea e allora mi serve avere informazione sulla linea ovviamente perché devo capire se il mio percorso continua se da questa stazione a questa e poi voglio andare in questa terza posso proseguire sulla stessa linea oppure devo cambiare a un certo punto. Allora gli archi non saranno tutti uguali. Allora andiamo chiaramente per gradi e iniziamo a fare un grafo semplice in cui ci preoccupiamo solamente di vedere dove ci sono i collegamenti possibili. Poi in questo testo c'è una parte che abbiamo chiamato estensioni possibili in cui complichiamo le cose volendo per ad esempio facendo un multigrafo o facendo un grafo pesato. Ecco sul peso non abbiamo ancora parlato. Quindi prima domanda era vertici, seconda domanda è il tipo di grafo, la terza domanda è il tipo di arco. Allora c'è dell'informazione associata a ogni singolo arco? ci serve? Barravogliamo? Avere dell'informazione associata ai singoli archi? Allora nel caso semplice no, possiamo semplicemente chiederci ci sono i collegamenti o no e grazie a questo possiamo scoprire i percorsi. Viceversa uno potrebbe pensare che le singole tratte non sono tutte uguali. Alcune tratte sono più lunghe altre sono più brevi, quindi se mi vuoi dare una stima ad esempio del tempo di percorrenza non mi basta sapere solo quale percorso vuoi fare, magari ci sono, non magari, sicuramente ci sono più percorsi tra due punti. Questo grafo è un grafo fortemente ciclico, essendoci tanti cicli significa che ci sono tanti percorsi alternativi. per fortuna. La metropolitana di Torino non ha un grafo altrettanto ciclico, è un albero, anche un albero abbastanza striminzito, per cui ci sarebbero pochi ragionamenti da fare su quale percorso prendo. Invece qua ci sono percorsi diversi che possono avere un tempo di percorrenza diverso. Allora potrei immaginare, è sempre tra le estensioni possibili, di stimare il tempo di percorrenza. Io non ho gli orari, quindi non ho il tempo di percorrenza esatto, però ad esempio ho le coordinate delle stazioni da cui posso immaginare la distanza e la velocità, dove è andata? La velocità di percorrenza delle varie linee. E quindi, più o meno, conoscendo la velocità media e conoscendo la posizione delle linee, posso farmi un'idea di quanto tempo la vettura impiega per transitare da una linea all'altra, da una stazione all'altra, da una fermata all'altra. È un'approssimazione chiaramente, però ci permette di distinguere magari una tratta lunga due minuti da una tratta lunga otto minuti, magari nelle zone più periferiche dove le stazioni sono più distanziate. Allora, in questo caso potrebbe aver senso etichettare ogni arco con un valore numerico che rappresenta il tempo di percorrenza e quindi avrei un semplice grafo pesato, grafo semplice ma pesato, semplice orientato ma pesato, dove il peso rappresenta, ad esempio, il tempo di percorrenza. Oppure la distanza, ecco, dipende che cosa vogliamo rappresentare, che cosa vogliamo minimizzare nella ricerca magari del percorso migliore. Quindi anche qua seguiamo lo stesso approccio, partiamo dalla versione semplice, facciamo un grafo non pesato, quindi ci interessa solamente se c'è un percorso o no e poi eventualmente nelle estensioni possiamo pensare di creare un grafo pesato. Qui ad esempio fa un altro esempio, il peso rappresenta il numero di linee che collegano due fermate. Quindi due fermate sono collegate meglio o peggio e allora il peso rappresenta questo. Oppure il peso rappresenta il tempo di percorrenza, oppure il peso rappresenta la distanza. ci sono vari modi di usare questa, il peso è un numero reale, che cosa rappresenta questo numero reale lo decidiamo noi, in funzione del problema che vogliamo risolvere. Ok, allora, dovremmo avere tutte le informazioni per costruire questo grafo. Allora, partiamo a questo punto da, dove andiamo? Dal nostro package model, allora nel progetto avevo già messo le classi linee affermate connessione che corrispondono, diciamo, alla rappresentazione del database in java, quindi non dobbiamo farci la parte noiosa, ma possiamo, fatemi lavorare in un branch diverso così, new branch crea grafo, creazione grafo. Ok, allora dicevo, nel model creiamo la classe model, nella quale creiamo un metodo, noi implementiamo un metodo per creare appunto il nostro grafo. Allora, sulla barrile delle scelte che abbiamo fatto, avremo una classe grafo, un oggetto grafo, dove ovviamente importiamo, lo definiamo come tipo graph, che è l'interfaccia generica, che dipende da due generics. Il primo è il tipo di vertice, il secondo è il tipo di arco, ci ricordiamo della volta scorsa. Allora, il tipo di vertice sarà l'oggetto fermata, e il tipo di arco è, abbiamo scelto di fare un grafo per ora non pesato, quindi sarà un default edge. E possiamo chiamarlo grafo. Default edge lo importiamo sempre da jgraph t. Quindi, nel nostro modello abbiamo, tra le varie strutture dati gestite dal modello, ci sarà una struttura dati grafo su cui potremo poi fare le ricerche di percorsi. e quindi abbiamo una procedura, un metodo, crea grafo, ad esempio, chiamiamolo crea grafo, che leggerà le informazioni del database e popolerà il grafo stesso. Allora, cosa fa questa procedura? Beh, innanzitutto deve istanziare il grafo, no? Creare la struttura dati grafo, fare la new essenzialmente del grafo stesso. Quindi la prima cosa che devo fare, dis.grafo uguale new del tipo di grafo che mi serve. Vediamo che qua nella new dobbiamo scegliere una delle 16 classi che jgraph t mi offre per poter creare un grafo. In questo caso è il grafo più semplice che c'è, semplice, orientato e non pesato, quindi se non sbaglio si chiama simple directed graph. simple graph è il grafo semplice e non orientato, simple directed graph è il grafo semplice e orientato. non c'è la parolina weighted in mezzo al nome del grafo perché abbiamo scelto di fare un non pesato. I generics sono gli stessi, fermata default edge e nel costruttore dobbiamo passare default edge punto class. l'ho visto la volta scorsa è una necessità che serve alla classe grafo per poter creare gli archi, sapere di quale classe crearli. io questo costruttore preferisco sempre metterlo dentro questo metodo piuttosto che non nella dichiarazione del grafo stesso. per un semplice motivo, in questo caso abbiamo un grafo che è fisso perché è la mappa della metropolitana, ma in altri problemi il grafo potrebbe cambiare in funzione dei dati che l'utente sceglie e inserisce. ok? allora mettere la creazione del grafo direttamente nel metodo che va a fare le query che costruisce il grafo stesso, mi garantisce del fatto che se io dall'interfaccia utente cambio i parametri il grafo ogni volta verrà ricreato da zero perché questa new di fatto mi cancella quello vecchio e mi fa ripartire da zero. ok? c'è sempre nei vari programmi che facciamo c'è sempre il problema se io faccio la ricerca la prima volta salta fuori giusto, se faccio la ricerca la seconda volta devo garantire di ripartire con dei dati puliti. e non, diciamo così, aggiungere nuovi elementi a liste o, diciamo così, strutture dati esistenti. quindi per questo io per abitudine tendo a non inizializzare strutture dati quando la dichiaro ma solamente quando effettivamente viene riempita. ok, beh adesso abbiamo un grafo bellissimo ma vuoto, dobbiamo cominciare a metterli dentro informazioni, ad esempio partiamo dai vertici. i vertici sono oggetti di tipo fermata, quindi dovrò fare una query al database e estrarre la lista di tutti gli oggetti di tipo fermata e questi convertirli in vertici, in vertici del grafo. quindi questo è un lavoro per una classe DAO, vediamo un attimo cosa troviamo già di pronto in questo progetto, metro DAO, allora qualcuno ha già fatto questo metodo, get all fermate, che sembra già fare al caso nostro, proprio perché oggi vogliamo occuparci di grafi e non di database. seleziona i vari campi from fermata, ordinati per nome, va bene, crea una lista di fermata e poi, vabbè, fa la query e crea oggetti fermata dove i campi di questo oggetto fermata sono il primo è l'ID fermata, il secondo è il nome e il terzo rappresenta le coordinate che sono rappresentate per scelta di questo oggetto fermata non separatamente come altitudine e longitudine come due numeri double, ma con un oggetto lat-long, che è un oggetto di una libreria simple lat-long che è già caricata, che abbiamo già specificato nella dipendenza maven, questa libreria qua, simple lat-long, che fornisce appunto un oggetto di tipo latitudine-longitudine, che rappresenta una coordinata e poi un po' di metodi che ci serviranno per calcolare magari le distanze tra due punti date le coordinate, quindi non ci dobbiamo andare a fare i calcoli trigonometrici noi a mano, c'è questa piccola semplice libreria che con un certo livello di approssimazione ci permette già di gestire delle coordinate geografiche, tra l'altro queste latitudini e longitudine vengono espresse in gradi, che è comodo per l'interfaccia utente, se dovessimo fare i calcoli trigonometrici dovremmo lavorare in gradienti e fa tutte le conversioni del caso. Quindi per questa versione del programma non ci serve il dato sulle coordinate ma sappiamo che, diciamo così, è stato memorizzato in questo modo nell'oggetto fermata. Quindi questo metodo del DAO possiamo usarlo così com'è per ottenere l'elenco dei vertici del grafo, cioè l'elenco delle fermate della metropolitana. quindi avrò una lista di fermata, che chiedo, fermate, al mio classe DAO, ovviamente devo istanziarla, anzi, fatemelo scrivere, si chiama metodo, new metodo, quindi chiederò al mio metodo get all fermate, questa solita lista. Quindi questa è la lista di fermate, una normalissima query database, che devo convertire in vertici del grafo. Quindi posso iterare sulla lista con un ciclo for e per ogni elemento della lista aggiungo il vertice corrispondente al grafo. Oppure mi ricordo che per questa operazione c'è già un metodo pronto nella classe di utilità graphs. Quindi io potrei fare delle operazioni di tipo this.grafo.addVertex, vedete che addVertex vuole un oggetto di tipo fermata, una ad una, oppure posso usare direttamente graphs, punto, quindi importo la classe graphs, non punto class, graphs, punto, add all vertices. Metodo add all vertices aggiunge tutti i vertici, quindi aggiunge tutti i vertici specificati al grafo destinazione. I parametri sono il grafo e la collection di vertici da aggiungere. Quindi add all vertices, il grafo è this.grafo e i vertici che voglio aggiungere sono le fermate che ho appena ottenuto dal database. Allora, proviamo a vedere cosa abbiamo ottenuto finora. Mettiamo qua la stampa del grafo e facciamo una classe di test per richiamare questo model. Quindi facciamo nuova classe test model con il main in cui creiamo model m uguale new model m.creagrafo. che è l'unico metodo che ha, poverino, lo chiamiamo quello. Proviamo a far run di questo e vediamo cosa salta fuori. Allora salta fuori nella console la stampa del contenuto del grafo, che ricordiamocelo come l'abbiamo visto la volta scorsa, è una coppia di elenchi. Il primo elenco è l'elenco dei vertici, il secondo elenco è l'elenco degli archi. I vertici sono qua e gli archi per ora sono vuoti, non c'è ancora nessun arco nel grafo. I vertici, non facciamoci ingannare, qui ci fa vedere il nome del vertice. Ma in realtà lui ha memorizzato l'oggetto di tipo fermata. Semplicemente quando fa la print, chiama il metodo toString sull'oggetto fermata e quindi qua visualizza solamente il nome. Ma dentro il grafo, così come dentro la list, dentro questa lista, ci sono oggetti di tipo fermata, ma se io volessi stampare la lista mi stamperebbe il nome, perché questo è ciò che fa il toString del metodo fermata, anche nel grafo. Quindi il grafo non è altro. All'interno mantiene, diciamo, una lista di oggetti che rappresentano i vertici. In realtà non è una lista, è un set perché i vertici devono essere univoci. Ecco, la cosa che non abbiamo verificato prima di aggiungere le fermate al grafo, ma addirittura prima di creare un grafo in cui i vertici sono di tipo fermata, è se l'oggetto fermata è stato definito correttamente, nel senso che abbia, poiché lo dobbiamo mettere in un set, deve avere i metodi hashcode equals che lavorano su un identificativo univoco della fermata stessa. E effettivamente funziona correttamente perché abbiamo l'hashcode che lavora sull'ID fermata, che è un numero intero, e anche l'iquas che controlla l'ID di fermata. Se non avessimo questi metodi hashcode e equas non potremmo aggiungere i vertici al grafo perché non potrebbero essere inseriti nelle set di vertici con cui il grafo lavora. Poi a volte, no, per vedere se il grafo è stato creato, magari non vogliamo stampare tutto il grafo, ma solamente il numero di vertici. E per trovare il numero di vertici cosa possiamo fare? Non c'è un metodo che mi dà il numero di vertici, ma c'è un metodo che mi dà l'insieme di vertici dis.grafo.vertexset e dato questo set chiaramente posso calcolare la dimensione con size. Ve lo ricordo, vertexset è chiarissimo che è un set questo, non è vertexlist. e infatti ritorno a un oggetto set di set fermata. Quindi noi abbiamo caricato una lista, ma questa lista è stata convertita in un set. Ok. E questa è la parte facile in cui ho creato, adesso ho un grafo che contiene, chissà quanti, non so, non li ho contati, se lo facciamo dire 619 fermate, tutte isolate. Non c'è nessun arco, quindi le fermate sono tutte separate l'una dall'altra. Allora, cosa possiamo fare per creare gli archi? ci sono modi diversi, no? Sono mille modi diversi, ma di tre macro-categorie che proviamo a vedere con questo primo esercito semplice. Un primo modo può essere quello di applicare la definizione che abbiamo dato. Cioè, tra due fermate c'è un arco, devo aggiungere un arco tra due vertici che rappresentano due fermate, se esiste almeno una linea che collega queste due fermate. Quindi potrei considerare tutte le coppie di vertici for fermata partenza due punti fermate for fermata arrivo due punti fermate dai, non faccio il pigro, scrivo partenza e arrivo fermate, quindi la lista di vertici vado a controllare se le due fermate sono collegate esiste almeno una connessione tra partenza e arrivo se sì allora aggiungo l'arco dis.grafo punto add edge tra partenza e arrivo quindi faccio il mio doppio loop su tutti gli archi potenziari tutti i possibili archi che posso immaginarmi sono tutte le possibili coppie di vertici e per nessuna coppia di vertici mi chiedo qua devo metterlo o non metterlo l'arco e chi è che non sa dire il database quindi questo if significa che devo aggiungere un metodo dal DAO che mi dica esattamente questo se esiste una connessione tra due stazioni ben definite sapendo attenzione che può esserci una connessione può essersene anche più di una connessione nel caso in cui ci siano delle linee multiple quindi nella nostra query dovremmo fare attenzione giustamente se esiste almeno una connessione mi sono ricordato di scrivere almeno una se avessi scritto esiste una connessione sarebbe stato un problema perché nel caso in cui ci fossero due connessioni cosa faccio no? mi sarei vuol dire che mi sarei dimenticato della possibilità di avere più connessioni cioè il grafo che ho è semplice ma nel database ci sono informazioni ripetute quindi devo fare attenzione a questo ok che query possiamo fare? possiamo allora andiamo a a provare a scrivere un'interrogazione che lavora essenzialmente sulla tabella connessione io avrò una coppia di stazioni partenza e arrivo e mi chiedo se esiste una connessione tra queste due stazioni ad esempio vediamo un po' se riusciamo a trovare queste due che dicevamo Gran Vulevar esiste EFC eccola qua la 204 e l'altra era Richelieu Drou la mia pronuncia francese questo qua 460 già mi sono dimenticato l'altra 204 460 quindi lo scrivo qua ok come esempio allora voglio vedere se ci sono delle connessioni tra queste due stazioni beh in questo caso è facile perché basterà fare una ricerca from connessione where allora la id stazione di partenza sia uguale a 240 and id stazione di arrivo è uguale a 460 204 grazie in questo caso mi sta dicendo che esistono due tratte come mi aspettavo due connessioni che entrambe vanno da 204 alla 460 ma la prima è della linea 1070 che corrisponde non lo so a cosa e l'altra della linea 1071 se mi interessasse posso andare a vedere le linee tabella linea 1070 1071 cosa sono l'M8 e l'M9 8 e 9 erano i numerini che avevamo visto prima sulla cartina quindi quadra quindi una query di questo genere dove non mi interessa ovviamente tutta l'informazione ma potrebbe bastarmi semplicemente sapere se ci sono quante sono in questo caso ce ne sono due se scegliessi altre due stazioni a caso mi direbbe zero quindi questa potrebbe essere una query che in modo molto semplice mi dà un numero che mi dice quante tratte ci sono se questo numero diventa zero devo aggiungere dell'arco magari anziché count asterisco lo chiamiamo as count cnt via questa potrebbe essere la query che facciamo dove chiaramente 204 e 461 sono i parametri che ogni volta dovranno cambiare quindi sulla base di questo mi vado a costruire un metodo del DAO che non c'è ancora perché c'era un get all fermate c'era un get all linee e basta quindi chi ci ha regalato questo DAO non ha fatto tutti i metodi che ci servivano e vabbè lo facciamo noi in questo caso è semplicemente un boolean is connected is fermate con s facciamo in italiano è un ibrido tra l'italiano e l'inglese perché normalmente usiamo is qualche cosa tutte le volte che è una condizione booleana per ricordarci che è un vero falso però il resto lo scriviamo in italiano perché i nomi delle tabelle sono italiani dove fermata di partenza e una fermata di arrivo e questo lo otterrò cercando di eseguire questa query che abbiamo visto prima coppia e incolla sistema di spazi 204 diventa punto interrogativo spazio 461 diventa punto interrogativo spazio e a questo punto non ci resta che far fare il lavoro al database quindi connection uguale dbconnect punto get connection poi crea uno statement prepare statement uguale connection punto prepare statement a cui ti passo la sql qui devo cominciare a mettere il try catch poi devo impostare i parametri della query prima di far eseguire quindi statement i due parametri sono i due punti interrogativi sono i due numeri interi che rappresentano l'id della fermata quindi set int parametro 1 l'id della fermata della stazione di partenza quindi si chiama partenza punto get id fermata e il secondo parametro sarà un set int il secondo parametro è l'id della fermata di arrivo arrivo punto get id fermata io ho preferito come sempre passare il metodo del DAO l'intero oggetto fermata anche se in realtà mi serve solamente l'id preferiamo sempre passare oggetti che passare valori semplici e poi finalmente facciamo la query result set uguale statement punto execute query questo result set avrà per costruzione esattamente una riga perché è un count quindi il count mi da sempre una riga quindi posso posizionarmi sulla prima riga first e vado a leggere il valore che ho ottenuto int count uguale res punto get int della colonna che ho chiamato cnt cnt a questo punto cnt è uguale zero o diverso da zero quindi attenzione a non fare subito return perché prima di fare return bisogna chiudere la connessione altrimenti ci rimangono tutte queste belle connessioni aperte e il connection pool a un certo punto ci blocca adesso posso fare return la domanda è sono connesse sono connesse se count maggiore di zero non scrivo if maggiore di zero return true else return false ma è la stessa cosa allora questo dovrebbe dovrebbe dico dovrebbe se funziona manca un return nel caso del catch però qua non dovrei ecco qua ovviamente in tutti i rami se deve ritornare un booleano in tutti i rami devo fare un return a meno che non generi un'eccezione prima si arrabbiava perché non stavo ritornando nulla dal ramo a catch se fosse un oggetto potrei provare ritornare un null ma un boolean non è un oggetto e quindi ritornare un vero o un falso mi sembrava ingannare il chiamante ok vediamo se funziona andando proviamo a essere ottimisti se fossimo più cauti aggiungerei un metodo c'è una classe test DAO in cui proverei a testare questo metodo con due o tre valori di prova ma siamo ottimisti usiamola direttamente dentro il DAO ma questa cosa qua mi torna utile perché la metto come commento e qua invece ci metterò la chiamata DAO punto ci sono fermate connesse la partenza e l'arrivo e allora andiamo a vedere a questo punto avrendo facendo tante add edge quanti archi abbiamo aggiunto al nostro grafo quindi gli archi li sai il database l'informazione su quali archi creare la sai il database io interrogo il database puntualmente per ogni potenziale arco lui mi dirà se devo metterlo o no nel caso di un grafo pesato questo metodo non ritornerà un booleano che mi dice mettilo o non metterlo ma mi ritornerà probabilmente un numero reale che rappresenta il peso da inserire oppure delle informazioni sulle basi delle quali calcolo il peso e poi aggiungo l'arco fatto questo il grafo dovrebbe essere completo ci sono delle cose rosse ma salviamo e dovrebbero spare cosa c'è di rosso qua ciccio partenza 1 cosa ho fatto ah era quel commento che forse ha preso come fosse l'identificatore ok proviamo a vedere a questo punto il test model e cosa abbiamo costruito allora sta girando ci mette un po' e poi in teoria se tutto va bene dovrebbe terminare e darmi il risultato perché ci sta mettendo un po' a meno che non abbia fatto dei lupi infiniti e mi è insaputa ma perché lui sta facendo un doppio ciclo e per ogni iterazione di questo doppio ciclo fa una chiamata al DAO fa una chiamata al database quindi fa una query quante query sta facendo le fermate abbiamo visto prima che erano 600 e qualcosa no? 600 e 619 quindi adesso sta facendo 619 per 619 300.000 esecuzioni di una query 380.000 quasi 400.000 sono query relativamente semplici per carità quindi quando abbiamo fatto questa query il database è risposto in qualche millisecondo però se risponde in un millisecondo e ne ho 300.000 vorrà dire che ho 300 secondi quindi devo prevedere di aspettare 5 minuti non è un tempo esagerato ma ci sembra eccessivo rispetto al tipo di lavoro che stiamo facendo alla fine stiamo creando un graffetto allora questo metodo è il metodo più semplice per creare gli archi mentre sta andando avanti ragioniamoci questo è il metodo più semplice ma ha il difetto che devo fare un numero di accessi al database pari al quadrato del numero di vertici e questo nel caso in cui abbia tanti vertici chiaramente e se la query magari è complicata in questo caso non lo era chiaramente aumenta il tempo di esecuzione allora ci sono alternative ci sono altri modi in cui posso ottenere lo stesso risultato beh sì ovviamente un modo potrebbe essere quello di dire anziché fare un doppio ciclo per tutte le coppie di fermate per tutte le coppie di vertici possiamo concentrarci su un vertice per volta e allora dire ok prendiamo una fermata ok chiediamoci quali sono tutti gli archi uscenti da questa fermata o entranti è uguale uscente è più facile da capire e quindi posso mi chiedo riesco a fare una query che data una fermata di partenza mi dia l'elenco delle fermate di arrivo chiaramente sì allora in questo caso per ogni vertice di partenza dovrò fare una query che sarà un pochino più complicata perché mi dovrà dare l'elenco delle fermate di arrivo e non semplicemente sì no un booleano sì no ma quindi la query sarà un pochino più complicata ma di queste query ne farò solamente 600 non ne farò 380.000 perché ne faccio una per ogni vertice nel frattempo i 5 minuti sono passati o che non so se qualcuno li abbia cronometrati non avevate fiducia vero pensavate che non sarebbe mai terminato invece è terminato e dove ovviamente abbiamo i nostri 619 vertici e rispetto ai 380.000 volte in cui ho chiesto devo metterci l'arco la risposta è stata affermativa solamente 1400 volte quindi questo è un grafo che ha una densità di dello 0,3% 3 per mille quasi 4 per mille è un grafo molto sparso non è un grafo molto connesso molto denso ma si vedeva anche da qua ci sono per ogni stazione quanti archi ha uscenti 2 la maggior parte ne hanno 2 alcuni ne hanno 4 pochissime ne hanno 10 12 la densità del grafo ovviamente è legata al grado medio dei vertici questo 1428 lo potevo stimare facilmente a naso è poco più del doppio di 619 poco più perché la stragrande maggioranza dei vertici ha solo 2 archi uscenti perché già c'è su una sola linea alcuni ne avranno di più quindi non è 619 per 2 farebbe 1238 e poi ci sono quei 200 archi in più che sono dati dalle stazioni che hanno già c'è su più di una linea ok quindi la conoscenza del grafo già mi faceva capire che mi conveniva concentrarmi magari sui singoli archi che non su tutti i possibili potenziali archi però questa è una possibilità non scartate adesso noi vedremo altri due modi per creare il grafo che non hanno questo problema diciamo così di lentezza ma è comunque la soluzione più semplice vale sempre al massimo è lenta soprattutto se il grafo è un grafo piccolo con pochi vertici ma va benissimo cioè non complichiamo le cose se non è veramente necessario ok quindi diciamo così metodo 1 itero su ogni coppia di vertici se questo non ci piace proviamo con un metodo cosa stai facendo proviamo con un metodo diverso che è dato un vertice dato ciascun vertice dipende uno uno trova i vertici adesso adiacenti cosa vuol dire come facciamo guardiamo sulla mappa vuol dire che se io prendo questo vertice qui penso Voltaire ho bisogno di una query che mi restituisca mi risponda Saint-Ambroise e Charon che sono i due vertici adesso adiacenti la query mi risponderà questi due e io collegherò aggiungerò un arco tra questo vertice di partenza e questi due vertici di arrivo quindi per ogni vertice della mappa faccio questa query quindi se la query fosse fatta su Pigalle mi restituirà quattro valori che sono Anver Abess Blanche e Saint-Georgie e io aggiungerò quei quattro archi quindi questa query lavora un pochino di più chiaramente ma poi mi dà un risultato che immediatamente io posso convertire in archi farò 619 query ciascuna query mi restituirà un numero di archi che va da due nella maggior parte dei casi due a quattro otto dieci aggiungo gli archi e sono a posto però ho diviso per 619 il numero di query che faccio sono query un pochino più lente magari saranno non so due tre quattro cinque volte più lente ma ne faccio 600 di meno e quindi alla fine mi aspetto che sia più veloce in questo caso quindi sono query in cui parto da una stazione che ne sono la 204 di prima e mi chiedo quali sono le altre stazioni collegate quindi potrebbe essere select proviamo così asterisco from connessione where id stazione di partenza id stazione di partenza uguale 204 cosa mi dice mi dice che dalla stazione di partenza 204 posso arrivare alla 460 o alla 53 o alla 460 o alla 53 o attenzione sono duplicati perché perché sono di linee diverse a me la linea non interessa mi interessa solamente la stazione di arrivo ok quindi come posso fare a dire non mi interessa la linea posso usare ad esempio un aggruppamento un group by group by id stazione di arrivo così mi darà una riga per ogni stazione di arrivo questi sono i numerini che mi servono in realtà di tutto il resto non me ne frega niente quello che mi interessa è solamente questo numerino qua quindi perché mai devo calcolare tutto adesso l'ho fatto per capire ma nella select potrei avere solamente questi qui quindi la 204 è collegata da una parte con la 53 dall'altra con la 460 e la 460 boh quella 460 sarà collegata con la 204 ovviamente ma anche con la 107 e la 370 e così via potrei implementare una query di questo genere nel DAO che mi calcola una lista di numeri interi in questo caso poi immaginiamo un po' cosa me ne faccio di questi numeri interi perché io a certo punto dovrò chiamare ADDEDGE su un metodo di partenza che sarà in questo caso il 460 e la chiamo tre volte con versi di arrivo che sono 107 204 370 ma ovviamente questi non sono numeri sono oggetti fermata allora per poter fare l'ADDEDGE ho bisogno dell'oggetto fermata che corrisponde all'ID 107 ho bisogno dell'oggetto fermata che corrisponde all'ID 204 e così via allora a questo punto ho due scelte da fare o il DAO mi restituisce già un elenco di oggetti fermata e vediamo come farlo oppure il DAO mi restituisce l'elenco di ID e poi sarò io nel modello che dall'ID conoscendo la lista di fermate mi vado a cercare quale fermata ha quell'ID e quindi ritrovo l'oggetto a partire dall'ID ok vediamo i due modi ok modo che sembra più semplice mi faccio restituire dal DAO gli ID c'è meno lavoro per il DAO la query è già questa ok è questa qui allora nel DAO quindi il metodo 2 vorrà dire che io itero sui sulle fermate di partenza per ciascuna fermata chiederò al DAO senti mi dai una lista di delle fermate connesse qui sarà una lista di interi sarà un DAO punto get ID fermate connesse da che cosa a una fermata di partenza devo mettere ID connesse uguale a questo punto cosa farò beh questa ID connesse è una lista di interi li prendo uno uno for integer ID due punti ID connesse ID non it calcolerò calcolerò la fermata di arrivo come la fermata che possiede questo ID e alla fine potrò fare finalmente la DEG di partenza arrivo questo è l'algoritmo che voglio fare la query è facile quella che abbiamo già scritto questo get ID fermate connesse lo possiamo fare adesso andiamo a implementarla purtroppo mi da degli ID che sono degli interi non li posso usare direttamente come addeggio e quindi dovrò andarmi a cercare nella mia lista di fermata e qual è quella che è quell'ID vabbè partiamo dal DAO andiamo a implementare questa cosa get ID fermate connesse crea metodo quindi riceve una fermata come partenza e restituisce una lista di interi la query che deve fare sarà quella che abbiamo appena provato quindi me la vado a ripescare questa qui mettiamo posto i soliti spazi qui ci metto il punto interrogativo spazio ok e poi solita cosa connessione db connect get connection prepare statement connection punto prepare dsql try catch imposto il parametro della query quindi statement punto set int primo parametro e unico parametro che è l'ID della stazione di partenza e 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 a questo punto posso creare il risultato sotto forma di lista di interi quindi lista integra result uguale new array list di integra e per ogni sull'attual result set punto next aggiungerò alla mia lista result punto add il numero intero che mi arriva dal result set quindi sarà result set punto get int della colonna che si chiama id underscore stazione a finito questo ciclo while sono alla fine dell'elenco di interi e chiudo la connessione e restituisco il risultato altrimenti se c'è un problema la solita query che ritorna tutti i risultati in questo caso sono solamente per una colonna ok allora ci manca ancora un pezzettino che è quello di convertire l'id in in un oggetto fermata e purtroppo abbiamo una lista no? se avessimo una mappa sarebbe immediato e anzi magari impareremo poi a costruire una mappa proprio per fare questo lavoro di passare dall'id all'oggetto quando ci serve quando ci fa comodo però non ce l'abbiamo quindi la lista la dobbiamo iterare quindi dovremmo fare qualcosa del tipo noiosissimo fermata arrivo uguale null ad esempio for fermata f f allora 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 in quel caso arrivo uguale f break e posso uscire dal ciclo vado a scandire la lista alla ricerca dell'elemento che ha lì di che mi serve dando per scontato che c'è sono sicuro che ci sia allora vediamo se commentiamo questo qua perché non abbiamo voglia di aspettare 5 minuti se questo è un metodo 2 mi calcola lo stesso grafo magari in tempo più rapido proviamo a far run vabbè più rapido lo è di sicuro e il numero di vertici e il numero di archi coincidono quindi sicuramente sto facendo dei passaggi un pochino più complicati la query un po' più complicata quest'operazione qui anche scandire una lista però è sempre più rapido che fare 380.000 query ne faccio solamente 600.000 620 619 quindi in questo caso data appunto ogni fermata di partenza mi faccio calcolare l'elenco delle fermate di arrivo e poi lavoro un po' con le collection per raggiungere l'arco c'è un altro trucco che potrei usare qua al posto di questo codice perché in realtà che cosa mi serve qua mi serve un oggetto arrivo che rappresenti l'oggetto fermata del grafo su cui agganciare l'arco ok posso prendere l'oggetto vero però a me basterebbe ricordiamoci che l'oggetto arrivo è già nel grafo a me basta dire all'addage qual è quello dei tuoi oggetti a cui collegarti mi basterebbe forse un oggetto diverso ma che avesse lo stesso hash code equals quindi potremmo adesso non vado a complicare fare una variante nella variante ma potremmo anziché fare questa ricerca semplicemente creare un nuovo oggetto fermata fake finto che abbia solo l'id e tutti gli altri campi a null tanto quando lui poi lo va a cercare nel set di vertici trova quello che c'è già però sarebbe abbastanza poco leggibile e comprensibile però a volte si fa si crea un oggetto che abbia solamente le informazioni minime per poterlo trovare all'interno di un insieme quando sappiamo che l'oggetto vero esiste già un simulacro parzialmente inizializzato però qui l'altra cosa che volevo dire sempre riguardo a questo codice è qui abbiamo potuto iterare sull'insieme delle fermate perché ce l'avevamo c'era appena uscito dalla DAO avrei anche potuto scrivere qui this.grafo .vertexect se non avessi ancora avuto la lista che ho usato per costruire il grafo alla fine sono gli stessi non avrei voluto scrivere questo ma le fermate quali sono da o.o ok allora scriviamo dove è andato sì ho fatto casino scusate non era questo sì era questo ecco io questo non lo vorrei vedere non lo vorrei vedere perché è vero che mi calcola sempre lo stesso identico elenco di fermate ma ogni volta rifà una query e allora mi sono dato una mazza sui piedi ok fate attenzione perché a volte negli esercizi che fate vi vedo chiamare con una certa disinvoltura i metodi del DAO più e più volte due o tre if DAO punto qualcosa poi subito dopo richiami di nuovo lo stesso metodo o cose di questo genere o dentro un ciclo chiamo il metodo del DAO ricordate che un metodo del DAO costa ok costa millisecondi mentre invece l'accesso a una struttura dati in Java una collection costa nanosecondi quindi siamo su un fattore un milione di velocità quindi ricordiamoci che tutte le volte che scrivo DAO punto sto facendo qualche cosa di pesante quindi cerchiamo di minimizzarlo facciamo una volta e ci salviamo il risultato poi questo risultato possiamo riusarlo quante volte vogliamo ma non rifacciamo di nuovo un'altra query che mi dia un risultato che già conosco ok allora qui metto questo e poi posso mettere una nota che vale anche per sopra posso iterare su fermate perché ce l'ho oppure su this punto grafo vertex list vertex set scusate sono confuso ok e questo funziona se non ci piacesse fare questo lavoro possiamo pensare a una variante chiamiamola 2b in cui il DAO non restituisce un elenco di numerici ma un elenco di oggetti fermata allora è chiaro che la query che abbiamo appena fatto non potrà mai restituire un elenco di oggetti fermata perché non li ha per avere un elenco di oggetti fermata dovrò andare a farmi una bella join con la tabella fermate in cui pesco tutte le informazioni e poi costruisco oggetti fermata così come già li costruivo nella query get all fermata quindi devo mettere insieme questi due metodi poi se vogliamo ci può essere una variante 2c il DAO restituisce un elenco di i di numerici che converto in oggetti tramite una mappa una map una map che mi mapperà l'integr sulla fermata questa è una tecnica che tenderemo a usare più avanti è un pattern che prende il nome di identity map una mappa che si ricorda l'identità dei miei oggetti e mi permette un accesso rapido e veloce a ogni oggetto conoscendo la sua chiave ok esiste poi un metodo 3 mi sto preparando il lavoro per l'ora successiva metodo 3 è ancora un passo avanti rispetto al metodo 2 nel metodo 1 facevamo n quadro quiri per ogni coppia di vertici nel metodo 2 facciamo n quiri una per ogni vertice che mi restituisce una piccola lista di vertici adiacenti ed è particolarmente vantaggiosa se il grafo ha una densità bassa quindi un grado medio basso dei vertici se questi vertici avesse un grado esagerato più o meno non ci guadagniamo molto il terzo metodo potrebbe essere riusciamo a far tutto in una quiri sola faccio una sola quiri che mi restituisca le coppie di fermate da collegare cioè alla fine noi siamo partiti in questo caso da una bella connessione di cui se guardo queste due colonne già mi dicono quali sono i vertici da collegare sono duplicati bisogna tenere conto di orientamento vabbè rimettiamolo a posto però potremmo avere una query che mi tira fuori già direttamente l'elenco di coppie una query che dentro macina un pochino e da questo elenco creo gli archi in questo caso è banale perché guarda caso il database ha già esattamente una tabella che contiene quell'informazione in altri casi come vedremo dagli esercizi capire se due vertici sono connessi o no può essere una cosa più complicata e quindi non è detto che con una query unica si riesca a tirare fuori l'elenco e anche di questo metodo 3 in un certo senso ci possono essere varianti che abbiamo chiamato ABC perché alla fine questo metodo tirava fuori o degli ID o degli oggetti interi però io in questo caso propenderei molto più per gli ID e quindi sarebbe preferisco a questo punto 3C usando la mappa la mappa variante preferita chiamiamola così però valgo esattamente i stessi ragionamenti che abbiamo fatto prima sul modo di convertire un ID in una fermata in un oggetto ok ci siamo come dicevo dati il lavoro per almeno una parte dell'ora successiva e quindi possiamo fare una pausa adesso e poi vedremo appunto di implementare questi metodi ma avendo già fatto tutti questi ragionamenti sarà abbastanza rapido e poi passeremo alla parte un po' più interessante di trovare i percorsi all'interno di questa mappa adesso vi lascio tranquilli per il prossimo quarto d'ora grazie